E' stato siglato un accordo con tutti e 230 i medici dell'Ulss 7 Pedemontana che prevede dal 1 aprile il 75% di questi medici vaccineranno in sedi messi a disposizione dell'azienda, il 25% invece nei propri ambulatori. Per cui un cittadino per conoscere, alcuni cittadini potrebbero essere chiamati dai loro medici, quel 25% che ha optato per il proprio ambulatorio, gli altri invece devono accedere tramite prenotazione nel sito aziendale dell'Ulss.